Questa missione è stata esasperante, ma finalmente in questo video scopriremo l'assurda verità. Vaffanculo! Vaffanculo! Vi giuro ragazzi, saranno 20 minuti che giro in tondo per cercare di capire cosa devo fare. Perché non posso dirgli nulla? Perché? Perchè? Maledizione. Cazzo devo fare? Devi dirmi la verità su Kit e Ezra. Detective, so di Ezra e Kit da molto tempo. Siamo stelle del cinema, fa parte del gioco. Dovrei preoccuparmi o arrabbiarmi. Ti serve altro. Maledizione. Sapevi che ti serve altro? Ecco qui le macchie di sangue. Praticamente sono state aggiunte delle modifiche nella modalità PC. Per cui prima dalle texture dipendeva pure macchie di sangue, macchie nel terreno, insomma anche la colorazione, cose così. Adesso invece c'è una statistica extra, che si chiama qualità dei detriti. Perciò sono andato ad aumentare questa cosa. E adesso finalmente vediamo queste macchie. E non solo, perché vedete... Vediamo qua... Schifezze. Vediamo la terra. Anzi la sabbia. Che arriverebbe dalla spiaggia. Eh, vediamo qua... Non lo so, colori. Insomma, ci sono più dettagli a terra. Questa cosa l'ho scoperta ora... Perché stavo impazzendo per il fatto che non c'erano le macchie di sangue. Guardate qui, anche più complesso. I muri, tutto. Allora, io non so veramente più cosa fare. Ho girato tutto in lungo e in largo, sto impazzendo. Non ci resta che non lo so fare delle prove e iniziere ad accusare tutti. Allora, la mia prima idea è che forse Santiago voleva di nuovo la sua vernice e quindi l'ha ucciso. Cazzo ne so. Proviamo ad accusarlo, vediamo che succede. Credo che tu sia l'assassino. Hai usato la mazza di Kit per incastrarlo e hai lasciato una traccia di vernice affinché la trovassimo. Ah, sì? E per quale motivo avrei ucciso Ezra? Beh, effettivamente... Perché dovevo ucciderlo? Solo per riprendersi la vernice? È un po' stupido. Forse puoi spiegarmi perché non... No, detective. Al contrario di te, non ho bisogno di lanci. Aha. Ami ancora Gilda e volevi tagliare fuori Kit. Sei come i miei critici. Sanno solo paragonare la parte veda che hai preso la tua decisione. Godetevi la vostra ultima ora. Boh, proviamo con gli altri, va. Guardate qua, persino una macchia tipo di acqua. Prima non c'era, mi sembra. Ah, lo dicevo agli altri, ma in realtà c'è solo... Questa qua, perché... Non posso accusare... Né la femmina, quella che è, né il marito. Credo che l'assassino sia tu. Esdra si stava approfittando dei vostri soldi. Ecco perché l'hai ucciso e hai incastrato Kit. C'era quasi, detective. Che peccato. Pensavo di giocare ancora un po'. Esdra Parker? Il gioco è bello se dura poco. Giusto. Questa storia... Non deve sfociare nella violenza. Oh mio Dio. Io me ne andrò. E tu dirai loro... Che sono scappato. È un covo di pazzi. Ma che... Ma è sdraettato dentro il corpo di... Di Giuliana? E l'ha uccisa? Mio Dio, non si capisce... Vabbè... Almeno abbiamo trovato l'assassino alla fine. Non lo so. Che psicopatico. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No. Perché? Non ha senso. Se ti lascio andare... Voglio una parte di quello che hai rubato. Lamenti così? E intanto ci siamo presi i soldi. Devo pensarvi. Mi dispiace, Detective. Allora, com'è sprofondare? Cosa? Devo pensare. Mi dispiace. Allora, com'è sprofondare? Spaventoso. Scordatelo. I tuoi omicidi finiscono qui. Allora? Godete la vostra ultima... E così... Si combatte. Allora, aspetta. Prima invece a lasciarlo andare. Vediamo un pochettino cosa succede. Come vanno le cose. I soldi però ce li prendiamo lo stesso. Che se ne frega di Valentine. Ok, ti lascerò. Mi fa piacere che tu abbia scelto... D'accordo, Detective. Di a Maxwell che è finita e avrai la tua ricompensa. Mi potevo portare più che Nick Valentine Longfellow. Forse sarebbe stato meglio. Morte cerebrale 2? Aspetta. Oh mio Dio. Allora. Parla di Ezra a Maxwell? Parla di Ezra a Maxwell. Ma perché è un'altra parte di missione? Oh mio Dio. E se invece parlassi al professore? Salve, Detective. Serve qualcosa? Ma fanculo. Essere inutile. Salve di nuovo, Detective. C'è altro? Quello vicino al cadavere non è... La vernice rossa potrebbe essere del signor Santiago. Ma sicuramente l'avrebbe. C'è altro? Ho trovato Ezra. Ha ucciso Giuliana. Eh? Ma come? Oh, certo. Informerò il personale e potremo... Ma... Perché? Ma perché? Ma... Non ha senso. Ragazzi, sono veramente deluso da questa missione. Poteva essere... Fatta meglio, ma... È stata fatta in una maniera... Complicata e... Insensata. Perché? Ma dov'è? Ma... Ma... Ma dove è andato? È scappato. Ah. Bersaglio stile rilevato. Ah, stanno combattendo. Direi che abbiamo finito. Però si chiama Giuliana. Niente ha senso. Parla con Ma... L'abbiamo scoperto. Finalmente. Ecco a lei, detective. Il pagamento per il lavoro... E un bonus per avere smascherato questo malvato... E quindi? Salve! Morte cerebrale completata. La capanna di Longfellow è sotto attacco. Nel frattempo. E l'altra pure? Sì. Ok. Cioè... È finita. La parte 2 non l'ho capita, sinceramente. Cosa sarà tutto quel caos. Cosa sarà tutto quel caos. Ah. Mio Dio. Sta dormendo. State tutti bene. Eh sì. Ma... Eh... Niente. È finita così? L'ultimo è Santiago. Beh, veramente c'è ancora... La nostra innamorata. La donna più sexy del Commonwealth. Anzi, del... Qua, dell'isoletta. Va. Va bene, ragazzi. Allora, questa missione mi ha veramente sfiancato. È stata estenuante. Veramente estenuante. È anche abbastanza deludente. Non so, magari è colpa mia perché ho fatto le cose in maniera... Non lo so. Non so proprio... Sono molto confuso. Almeno qua abbiamo una tuta del Volt. Ce la prendiamo. Eh... Boh. Non lo so. Mi sa che... Niente. Nessuno dice niente. Boh. Vabbè. Ragazzi, abbiamo finito questa missione in questo Volt. Terribilmente brutta la missione. Anche tutto quello che è successo in questo Volt. Ma finalmente appunto è finita. Ci vediamo nel prossimo video in cui... Andiamo ad aiutare Longfellow. E questa volta ce lo portiamo dietro e mandiamo a cagare Nick Valentine. Che è stato completamente inutile. Salute a che te ne pisa. Che è stato completamente inutile. Che è stato completamente inutile. Grazie a tutti.